Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore, la storia di oggi è c'è un però, di recente lei è stata avvistata senza il suo compagno e, soprattutto, insieme ad un altro volto noto della TV, che tra l'altro ha partecipato alla loro stessa edizione del reality. Ecco di chi si tratta.Delia Duran avvistata senza Alex Belli Per Delia Duran questo sembra essere un momento molto ricco, soprattutto dal punto di vista professionale. Sappiamo che di recente ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo della moda, diventando stilista e all'evento Pin Up Stars a Milano Marittima. Il famoso brand di Beachwear ha infatti inaugurato un nuovo negozio monomarca al Papeete Beach, il Papeete Cabana. E la Duran ha curato una sua capsule collection personale, la Delia Duran XXX, andata sold out sia online che nello store fisico in pochissime ore. Allo stesso modo, sembrava che ormai fosse riuscita a recuperare il suo rapporto con Alex Belli. L'ingresso dell'attore nel GF VIP 6 aveva dato il via ad una crisi con la sua compagna di vita Delia Duran. La sua vicinanza con Soleil sorge, la loro amicizia che si stava tramutando pian piano in un innamoramento, le loro effusioni, il tutto durato ben tre mesi, aveva fatto innervosire non poco sua moglie Poi a dicembre Belli aveva deciso di lasciare il reality per amore della moglie e di tornare a Milano insieme a lei. Ma, dopo circa un mese di litigi, era stata lei a decidere di entrare nella casa più spiata di Italia All'inizio sul suo viso c'erano solo lacrime e sembrava che la donna fosse troppo ferita dal comportamento di Alex, tanto da volersi prendere una pausa, ma poi l'ingresso di lui per una settimana le aveva fatto cambiare idea Oggi i due sembrano più felici di prima, eppure Delia Duran è stata avvistata insieme ad un altro volto noto della TV Ecco con chi era.Delia Duran di recente è stata avvistata a Milano con un altro voto noto della TV, che non ha potuto incontrare nella casa del GF Vips e solo perché la persona in questione era stata eliminata molto prima del suo ingresso Parliamo di Raffaella Fico, ex vipona come lei. Le due che ci facevano insieme? Erano ospiti entrambe di un evento In particolare, le due erano ospiti del Relish Summer Party, il party organizzato dal marchio di moda a cui hanno preso parte moltissimi volti dello spettacolo, tra cui anche Stefano De Martino, tanto per citarne uno Delia Duran, però, si è mostrata in tutte le foto senza il suo compagno Alex Belli Quale sarà il motivo della sua assenza? Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie Grazie per la visione